Halloween sta a Borgo a Mozzano come il Carnevale sta a Viareggio e i comics stanno a Lucca. Con questa equazione il sindaco Patrizia Andreuccietti, a poche settimane dalla Notte delle Streghe, annuncia il divorzio con Halloween Celebration. La manifestazione si terrà anche quest'anno il 31 ottobre, ma cambierà nome e logo. L'evento più atteso dell'autunno in Valle del Serchio si chiamerà Halloween Borgo a Mozzano, a sottolineare ancora di più nelle intenzioni dell'amministrazione il legame indissolubile tra la manifestazione e il paese. Negli anni, ha detto il sindaco, abbiamo assistito alla nascita di appuntamenti e iniziative che tentano di replicare la magia di Halloween a Borgo, ma non sono paragonabili a ciò che ogni anno, da quasi 30 anni, avviene da noi. E così si volta pagina, ma per tutelare la tradizione. La serata, che prenderà il via a partire dal pomeriggio con tanti eventi dedicati ai più piccoli, culminerà come sempre con lo spettacolo pirotecnico al Ponte del Diavolo, preceduto dal suggestivo arrivo di Lucida Manzi.